come anticipato nella lezione precedente in questo video continueremo ad esplorare le funzioni built in che il perl ci mette a disposizione per manipolare gli array buona visione iniziamo dalla funzione reverse la funzione reverse accetta un solo parametro ovvero l'array che vogliamo modificare e restituisce la lista in ordine inverso dell'array passato come parametro ma guardiamo l'esempio ho creato l'array numeri al quale ho assegnato i valori da 0 a 5 tramite l'operatore range dopodiché ciclo for che stampa ad ogni iterazione ciò che si trova in indice i dell'array numeri finito il ciclo for si utilizza la funzione reverse sull'array numeri e si salva il risultato all'interno dell'array numeri stesso quindi andandone a sovrascrivere il contenuto infine di nuovo un ciclo for per vedere come è cambiato l'ordinamento della lista dell'array numeri guardiamo cosa succede in output allora numeri prima di reverse abbiamo 0 1 2 3 4 e 5 e dopo reverse abbiamo 5 4 3 2 1 e 0 come vedete l'ordine è stato invertito e mi raccomando non commettete questo errore di non salvare il risultato della funzione reverse all'interno di un array in quanto il risultato della funzione stessa andrebbe perso come vedete se non si salva il ritorno della funzione reverse l'array resta invariato quindi come abbiamo visto la funzione reverse restituisce una lista di elementi in ordine inverso rispetto all'array passato come parametro ma come abbiamo detto restituisce una lista di elementi quindi è possibile utilizzare la funzione per creare al volo del nuovo array guardiamo l'esempio ho creato l'array lettere al quale ho assegnato i valori dalla a alla f utilizzando l'operatore range dopo ciclo for che stampa ad ogni iterazione ciò che si trova in indice i dell'array lettere una volta terminato il ciclo for creo l'array lettere invertite al quale assegno come valore il ritorno della funzione reverse al quale passo come parametro l'array lettere infine ciclo for che stampa ad ogni iterazione ciò che si trova in indice i dell'array lettere invertite guardiamo lo script in esecuzione l'array lettere contiene a b c d e ed f e l'array lettere invertite contiene f e d c b a quindi i soliti elementi che si trovano dentro l'array lettere ma in ordine inverso guardiamo un utilizzo furbo della funzione reverse come abbiamo detto la funzione reverse restituisce una lista di elementi in ordine inverso rispetto alla lista passata come parametro ora ok nell'esempio precedente abbiamo passato come parametro un array ma non è che la funzione reverse è limitata all'utilizzo di un array basta che sia una lista abbiamo passato un array solamente perché la situazione più comune è che una lista sia contenuta all'interno di un array ma non è la regola infatti guardiamo l'esempio immaginiamo di avere la necessità di stampare i numeri da 5 a 0 quindi cosa si fa si utilizza la feature say e poi utilizzando l'operatore range si tenta di stampare i numeri da 5 a 0 guardiamo l'output non abbiamo niente in output questo poiché l'operatore range non consente di stampare numeri o lettere in ordine decrescente ma solamente in ordine crescente e ciò potrebbe essere un problema o comunque sia una limitazione ed ecco qua che entra in gioco la funzione reverse infatti richiamando la funzione reverse sull'operatore range come abbiamo detto l'operatore range restituisce una lista di elementi quindi ecco qua la nostra lista questa lista ci sono i valori da 0 a 5 la funzione reverse prende quindi questa lista di elementi e la restituisce in ordine inverso guardiamo adesso l'output come vedete abbiamo arginato il problema in quanto siamo riusciti a stampare correttamente i numeri da 5 a 0 utilizzando comunque l'operatore range passiamo alla funzione sort la funzione sort è utilissima accetta come parametro una lista e restituisce la lista passata come parametro ordinata inoltre la funzione sort quando si tratta di stringhe restituisce una lista ordinata secondo la tabella ascii guardiamo lo script ho creato l'array nomi al quale ha segnato i valori fred scubi shaggy velma e dafne dopodiché ciclo for che stampa ad ogni iterazione ciò che si trova in indice i dell'array nomi fine del primo ciclo for sovrascrivo l'array nomi con il ritorno della funzione sort sull'array nomi stesso infine di nuovo il ciclo for che stampa ad ogni iterazione ciò che si trova in indice i dell'array nomi per vedere come sono cambiate le cose guardiamo lo script in esecuzione nomi prima di sort abbiamo fred scubi shaggy velma e dafne i nomi dopo sort abbiamo dafne fred scubi shaggy e velma come vedete gli elementi sono stati ordinati ma attenzione perché la funzione sort nasconde delle insidie come ho detto in precedenza la funzione ordina gli elementi della lista passata come parametro seguendo la tabella ascii quando si tratta di string ora ho modificato e lo script che vi ho fatto vedere in precedenza ho creato l'array numeri e al quale assegnate valori 10 34 67 15 e 8 ciclo for che ad ogni iterazione stampa ciò che si trova in indice i dell'array numeri dopodiché ho assegnato l'array numeri il ritorno della funzione sort al quale ho passato come parametro l'array numeri stesso quindi ho sovrascritto il contenuto dell'array numeri e infine ultimo ciclo for che stampa ad ogni iterazione ciò che si trova in indice i dell'array numeri per vedere come è cambiato l'ordinamento della lista guardiamo lo script in esecuzione l'array numeri prima di sort è composto da 10 34 67 15 e 8 e l'array numeri dopo sort è composto da 1 10 34 5 67 e 8 non è esattamente quello che ci si aspettava ci si aspettava di avere una lista ordinata dal numero più basso al numero più alto ciò non accade perché di default la funzione sort tratta tutti gli elementi della lista come stringhe e quindi l'ordinamento che vediamo nell'array numeri dopo sort è dovuto al fatto che 1 10 34 5 67 e 8 è l'ordine stabilito secondo la tabella ascii e non secondo valore del numero stesso per risolvere il problema dobbiamo utilizzare questa forma all'interno della funzione sort ma analizziamola insieme bisogna aprire le parentesi graffe e al loro interno eseguire un confronto tramite spaceship operator tra la variabile a e e la variabile b ok ma cosa sta succedendo e soprattutto dove abbiamo pescato queste due variabili le variabili a e b sono variabili globali di default e sono presenti in ogni script perl sono presenti anche se non le vedete e alcune funzioni particolari come la funzione sort per l'appunto le utilizzano per effettuare le loro operazioni infatti la funzione sort dietro le quinte esegue un'iterazione sulla lista che gli passiamo come parametro e inserisce dentro le variabili globali di default a e b i valori da confrontare per stabilire quale sia il maggiore o quale sia il minore lo spaceship operator che è questa cosa strana qua è un operatore di comparazione a tre vie cosa vuol dire a tre vie vuol dire che può potenzialmente restituire tre valori ovvero uno se il valore di sinistra è maggiore del valore di destra meno uno se il valore di destra è maggiore del valore di sinistra e zero se invece i valori sono equivalenti e attenzione perché è qua che avviene la magia lo spaceship operator è un operatore di comparazione numerico questo vuol dire che la funzione sort inserisce come abbiamo detto in precedenza gli elementi della lista all'interno delle variabili globali a e b dopodiché lo spaceship operator procede con la comparazione dei valori all'interno di a e b però attenzione come abbiamo detto è un operatore di comparazione numerica quindi i dati trattati all'interno delle variabili globali a e b verranno trattati come interi e non come stringhe quindi guardiamo lo script in esecuzione numeri prima di sort abbiamo 10 34 67 1 5 e 8 e l'array numeri dopo sort abbiamo 1 5 8 10 34 e 67 finalmente siamo riusciti a ordinare correttamente gli elementi dell'array numeri in quanto grazie a questa forma qua siamo riusciti a trattare gli elementi della lista numeri come interi e non come stringhe e infine un piccolo trabocchetto sull'interpolazione tra array e stringhe nell'esempio ho creato volutamente una situazione di ambiguità ovvero ho creato l'array email che vabbè al quale ho assegnato al suo interno dei valori completamente a caso dopodiché ho creato la variabile user mail e ho assegnato la stringa gianni chiocciole mail.com infine stampa in output il contenuto di user mail guardiamo cosa succede un disastro in output abbiamo gianni a bcdf.com questo perché questo perché avendo assegnato la stringa gianni chiocciole mail.com tra doppi apici abbiamo scatenato il principio di interpolazione degli array e delle stringhe quindi questa parte qua chiocciole mail è stata interpretata come un richiamo all'array email in questo modo è stata costruita la stringa gianni a bcdf.com quindi quando ci sono delle situazioni di ambiguità il mio consiglio è quello di utilizzare singoli apici in modo tale da non innescare il principio di interpolazione ora va bene ok ho avuto questo warning che l'array email è stato usato solamente una volta quindi potrebbe essere mi avvesa che potrebbe essere un errore ma non è un errore è tutto voluto comunque in questo caso utilizzando i singoli apici ci mettiamo completamente al sicuro da possibili interpolazioni altrimenti se proprio non vogliamo rinunciare doppi apici poiché per qualche motivo più là nella stringa abbiamo bisogno di interpolare una variabile possiamo utilizzare lo slash prima di citare il nome dell'array in questo modo otterremo il medesimo risultato in quanto chiocciole mail non verrà interpretata come chiamata all'array email stesso bensì come parte della stringa bene io direi che anche per questa lezione è tutto e a risentirci grazie a tutti